amici carissimi questa sera del 7 dicembre anno 2019 visto che io non lo ricordo lo faccio dire siamo in compagnia di alessio praticò che adesso attore che adesso ci racconterà vita morte e anche miracoli ma miracoli devo dire pochi ci stiamo attrezzando per questo cercherò di essere breve no in realtà sono un attore sono uno dei premiati questa sera e questa cosa mi fa un immenso piacere perché è un premio importante e come credo sia giusto dire che un premio è un segnale che si sta facendo qualcosa di buono te la vuoi contare tutta questa serata mi piacerebbe dire questa cosa ma la dico perché la penso veramente che è già un premio poter fare questo lavoro che soprattutto una passione quindi già mi sento privilegiato per questo in più qualcuno si è accorto che sto facendo delle cose buone quindi sono ancora più felice insomma senti una cosa ma qui c'è il sacro fuoco dell'arte lo senti che brucia? non lo so se c'è effettivamente il sacro fuoco posso dire che è come un pesce che viene messo fuori dall'acqua e non riesce a respirare anche io quando diciamo non cioè se mi mettessero a fare dell'altro avrei la stessa percezione insomma la stessa sofferenza e allora questa è la tua strada ma io me lo auguro me lo auguro e sono veramente felice stai studiando attualmente e stai facendo anche altri upgrade? no io direi che in questo lavoro non si finisce mai di imparare quindi è un continuo punto di partenza mai un punto di arrivo io ho fatto già una scuola di recitazione la scuola del teatro stabile di Genova e diversi diciamo tu sai che da Genova vengono diversi lavori dei mostri sagri sì lo so quindi non tradire no 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 già qualcosina ho fatto quindi però ripeto è sempre un punto di partenza mai di arrivo quindi come ho detto all'altra ragazza ti aspettiamo quest'altro anno va bene sì sì assolutamente magari con una barba un po' più corta un po' più importante no ma questa è per questione di lavoro questa è per questione di lavoro non è vero vabbè quello che si dice non la facciamo passare dunque io te lo faccio ripetere siamo stati in compagnia di Alessio Pratico per me è stato un piacere tanto dopo ci andremo a sedere e aspetteremo che ci sarà il momento della tua premiazione quindi a saltranno ti ringrazio grazie alla prossima